Guardate un po' che cosa sta succedendo a Parigi, quali sono le vere proteste, quelle che veramente sono effettive. Io mi compiaccio con loro perché credo che arrivare a questo punto, a murare il Parlamento, è veramente una grande decisione, ma è soprattutto un grande coraggio e mi auguro per loro che comunque riescano ad avere dei buoni effetti. Però credo che questa manifestazione sia veramente da buon esempio per tutti. Quindi buona muratura a tutti, a tutti i Parlamenti del mondo. Grazie a tutti.